cari amici telespettatori bentornati all'interno del salottino della positività che anche per questa seconda puntata di questa nuova edizione dell'agenda delle cose belle tv edition spalanca le proprie porte e torniamo a dare il senso originario alla parola positivo qui sapete che si parla solo ed esclusivamente di cose belle e siamo all'interno degli studi di idea plus qui a chianciano terme ma lo sapete bene ormai la nostra è una trasmissione giovane non per quanto riguarda il sottoscritto per lo meno ma semplicemente perché noi siamo ormai nativi digitali dei social e per fare questa sì ti ho presentato così questa settimana è andata così ti ho presentato in questa maniera e per fare appunto social per essere social per continuare ad essere social intanto che il delirio avanza abbiamo la nostra meravigliosa ragazza dai tratti orientali che torna anche in questa seconda puntata e non si è ancora stufata del sottoscritto yume buonasera a tutti e a proposito di positività la sera daniele mi piace particolarmente tanto il tuo libro cioè apprezzo veramente tanto l'immagine sulla tua maglietta guarda immaginavo davvero intenditore immaginavo ma la maglietta chiaramente non è stata messa a caso cercherò di tenere un outfit che avrà qualcosa in comune con l'ospite che di settimana in settimana verrà a trovarci e quindi lo presentiamo immediatamente è un'ospitessa è una bellissima ragazza è della provincia di arezzo anzi di arezzo proprio perché viene direttamente dalla capitale la capitale è la capitale di questa zona qua andiamo immediatamente vado immediatamente a presentare e ringraziare per essere qui di fianco a me seduta sul nostro comodo divanetto largo soprattutto grande gigante perché la settimana scorsa daniele maggini ha detto un po più piccolo la prossima volta sarah mattesini ciao a tutti grazie daniele per questa deliziosa presentazione le faremo sapere grazie va bene può andare ottimo alla stragrande allora come vedete il nostro studio questa settimana si è colorato e arricchito di una serie di oggetti molto particolari che tra pochi istanti andremo a capire a che servono perché ci hai portato tutto qui gli ospiti che vengono all'agenda delle cose belle ci portano sempre oggetti foto qui come dicevo la scorsa settimana ci mettiamo a nudo però faccio mettere a nudo l'ospite perché se si mette a nudo il conduttore mi fa piacere che parliamo subito così a cuore aperto perché ho notato questo divanetto fantastico presumo mi vuoi ritrarre come le tue ragazze francesi benissimo e se no ho portato un gatto perché ho paura di sentirmi sola e quindi ti potevo portare anche quelli veri però questa è più facile gestione iniziamo bene anche sto settimana allora qui all'agenda delle cose ecco tanto che bello il primo piano del gatto proprio mi manca bellissimo ha un nome gg gg gatto gg no vabbè questa era un'altra cosa retaggi del passato noi qui all'agenda delle cose belle iniziamo sempre da una sola domanda conosciamo l'ospite cerchiamo per l'appunto di conoscere l'ospite che si siede qui di fianco a me settimana dopo settimana e quindi ti faccio la domanda classica scontata banale quella che faccio a tutti per rompere il ghiaccio chi è Sara Mattesini allora con quale delle mie personalità vuoi parlare non lo so scegli tu perché ne ho principalmente tre allora se poi te l'elenco c'è conflitto di interesse ma no si può fare tutte e tre in frullato quella predominante quella bipolare ottima no poi ci sono quelle che puntatina mi ha detto di andare in nudo quindi o così o mi spoglio fai tu no 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 guarda ci guardano i bambini da che lasciamo perdere quindi parliamo di malattie mentali che assolutamente che è una cosa bella che è una cosa molto intrigante bene detto questo mi presento io sono Sara e non sono raffreddata perché dopo ci sono le mali lingue che lasciamo perdere ho il babbo africano quindi questo è il mio accento africano mamma talendese ho preso da mamma perfetto bellissima bellissima questa questa presentazione quindi non ci abbiamo capito assolutamente niente però pazienza fondamentalmente ricomincio sono Sara si ho 30 anni e vengo da Arezzo si può parlare in dialetto ma si e fu come dal web Iume dal web non c'è un traduttore che ci faccio una rapida ricerca che no vabbè lasciamo il dubbio tanto ci guardano anche da Arezzo lasciamo il dubbio lasciamo il dubbio così sono sicura che nessuno mi conosce perfetto ottimo sarà molto rimpiango Roberta Soldani guardate un po' ma probabilmente arriverà probabilmente arriverà anche lei in questa edizione allora iniziamo cioè tu ci hai portato una serie di oggetti dicevamo all'inizio a me oltre al gatto Gigi e vedo anche un meraviglioso micio rappresentato nel nel cuscino sempre Gigi sempre Gigi è il cosplayer di questo guarda hai lanciato un assist ecco intanto che lo stanno anche mettendo in primo piano io volevo partire da dalla macchina dalla macchina da cucire ma hai lanciato un assist che forse si collega tu hai detto è il cosplay di questo perché hai lanciato questa parola cosplay allora perché io nella vita principalmente prendo decisioni sbagliate nell'arco della giornata sono estetista ok e nel tempo libero appunto faccio la cosplayer e ho portato qui un pupazzetto che rappresenta appunto Gigi per chi non l'ha visto è di un film di Miyazaki chi chi consegna a domicilio che è uno dei miei preferiti e l'ho voluto portare va molto di moda tra i rider questo film poi ora che la benzina ha raggiunto costi con la scopa si va alla grande e le va molto in voga tra i rider salutiamo tutti i nostri amici rider grazie che mi salvate la vita tra l'altro perfetto quindi allora abbiamo detto mondo cosplay perché tu di giorno fai l'estetista infatti guarda ringrazio la regia per questo faro perché sembra un solario come dire mi sento a casa accolta grazie grazie ma noi l'abbiamo fatto apposta impeccabile perché in genere chi viene a lavorare in televisione lavoro al buio ah non è per abbronzarti no no assolutamente oggi sapendo che veniva un esponente che comunque ha a che fare con l'estetismo si dice estetismo vabbè pazienza noi che dai ma che spieggio prega ma hai sparato cose strane finora non ne posso dire una io comunque a parte gli scherzi un estetistico semmai sapendo sapendo che veniva a trovarci un estetista abbiamo detto accendiamo i fari la facciamo sentire a casa sì sì grazie avete reso l'idea credici credici assolutamente vai assolutamente o ti vuoi abbronzare per le mie origini africane sì anche per quello perché voglio somigliare a Carlo Conti allora capito siccome Carlo Conti già il 21 di dicembre è già colorato come io non sarò mai nella vita salutiamo Carlo Conti ciao Carlo è bellissimo perché in realtà pensavo di essere Litizzetto e Fabio Fazio quindi già mi immaginavi a una scrivania in realtà mi immaginavo io sopra una scrivania che niente facevo i cavoli miei cosa che sto facendo però fondamentalmente non ci abbiamo capito niente ma vediamo se magari dal mondo del web magari qualcuno ci ha capito di più perché io ancora non ci ho capito niente però va benissimo così diamo parola al mondo del web vai Yume allora che puntata dal mondo del web qualcosa sia arrivato ci hanno capito anche perché molte persone cosplayer hanno fatto delle domande ma effettivamente io ne ho scelte alcune particolari che secondo me potevano risultare interessanti ad esempio questa bellissima domanda qual è il tuo personaggio preferito in assoluto e per quale motivo allora senza dubbio Harley Quinn perché sono pazza ovvio e perché soffri di personalità multiple ricordiamolo cioè sono io e inoltre ci tengo a specificare che io sono bionda certo così se dico qualche sfondone sono giustificata certo a posto basta no sto scherzando ovviamente io sono una cosplayer disneyana sposare questo termine disneyana ma sì ma sì quindi tutto quello che riguarda la disney per me è oro colato va bene tutto e quello che interpreto più volentieri è senza dubbio Elsa di Frozen beh perché Elsa di Frozen cioè ti piace il freddo ti piace no perché così dico le freddure e tutti sono contenti fine va bene dicevamo la puntata è finita qua ci dispiace quest'oggi purtroppo andiamo in onda in forma ridotta ma abbiamo abbiamo le ultime news vero dall'Italia e dal... no no assolutamente no assolutamente non ci importa comunque sia no ma che c'è fregato ma che c'è fregato ma noi stiamo nel nostro salottino ma che stiamo meglio di noi ma in questo bel divano lungo questa chaise longue che... ma invitiamo gente adoro ma perché no ma invitiamo certo ovvio poi tra l'altro la settimana scorsa c'erano dei cioccolatini stasettimana te li hanno secondo me li ha fatti fuori i hume sono finiti ovvio cioè da una settimana non li ha fatti fuori i hume va bene ok allora allora continuiamo a spulciare un po' chi sei continuiamo a spulciare un po' tra i tuoi oggetti allora abbiamo detto che tu di giorno fai l'estetista mentre di notte ti trasformi nel salifrozen sicuro e come tutte le cosplayer io immagino tu abbia portato quella meravigliosa macchina da cucire in riproduzione in scala si dice giusto sì credutissimo che ne so ma sì fai l'estetista salutiamo tutte le estetiste assolutamente e proprio perché cioè che cosa rappresenta quel simbolo immagino che sia qualcosa legato al mondo cosplay nel senso spesso e volentieri i cosplayer si cuciono i vestiti oppure ha qualche significato diverso allora qui attenzione a quello che diciamo perché rischiamo una battaglia perché c'è questa guerra tra il cosplayer che cuce il cosplayer che compra quello è cosplayer l'altro no sì a me non mi importa niente di queste cose io lo faccio principalmente per uno scopo personale cioè anzi più che uno scopo per una passione personale è una cosa creativa che a me piace e mi piace creare mi piace cucire e e niente quindi per me i miei cosplay sono sono tali mi li sento miei proprio perché vado a a cucirli però questo non vuol dire che chi indossa un vestito fatto da un'altra persona possibilmente citandola perché sono comunque lavori non si ha da meno certo assolutamente anche perché il cosplay è non solo il cuscito ma è anche interpretazione e soprattutto divertimento guarda l'abbiamo già fatto nella precedente edizione e qui mi rivolgo alla nostra Yume perché voi avete chiaramente una passione in comune che è quella che è quella del cosplay Yume do la parola a te come come la vedi questa cioè tu sei per il team mi compro il vestito o per il team sei d'accordo con quello che ha detto sai insomma creiamo questa cosa come già facesti ai tempi posso parlarne senza problemi anche perché come sanno molti da casa anch'io ho la doppia identità che fuori dal programma appena abbarco la porta divento una cosplayer anch'io e mette il maglione verde esatto e mette il mio maglione verde è il problema di persone è delle cosplay è nostro è genetico ah ok e niente sì questa questione la conosco anche effettivamente ci sono persone nel cosplay che reputano costumi non fatti a mano dal cosplayer stesso non veri costumi cosplay e non saprei che cosa dire dal momento che io non sono capace a cucire i miei costumi quindi sono obbligata a comprarli non so se reputarmi una vera cosplayer ma questo è quello che posso fare e che altro dire a parer mio chiunque compri i costumi chiunque se li faccia è un vero cosplayer perché alla fine il senso del cosplay è portare in fiera divertirsi interpretare il personaggio e sentirsi a proprio agio non c'entra nulla come tu fai il costume o chi te lo fa beh sei d'accordo con questa sì 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 assolutamente sì sì tanto sì no tanto quando sono sul palco è mio tutti a casa a gusto perfetto no vabbè se poi vogliamo parlare di personalità apriamo un mondo no no fermiamoci qua ok fermiamoci qua che fatica sta puntata no davvero no così così assolutamente quanto manca un'ora e mezza avevate detto no più o meno pensavo di metterti a tuo asio no ma io sono a mio asio aspetta ah sì me l'hanno appena detto le voci tranquillo perfetto ottimo va bene tieni grazie è stato bello signori che altro di posso fare baffi no possibilmente no è una puntata che va così va bene pazienza è il bello è il bello dell'agenda è il bello del divertirsi dello stare uno di fianco all'altro seduti su un divanetto arancione a divertirsi anche perché se non fosse non chiamavi me lo sai bene lo so ma infatti ma infatti ti ho chiamato per un preciso per un preciso motivo cioè questo meno male io ho un'altra sorpresa per te perché in questa edizione come Yume ormai sa benissimo ma che succede Yume in questa edizione io stasera vado così non ho più voglia di condurre quindi faccio parlare Yume così ma Daniele mi fa piacere che non lo so ti affidi tanto a me ma quello che ti posso dire è che in questo programma ci sono tante domande arrivano sempre tante domande da casa da fuori dallo studio stesso da te e quindi anche io me lo chiamo basta domande basta domande andiamo a berci una birra dopo ecco esatto e quindi e quindi in come diceva Yume appunto ci sono tantissime domande e in questa edizione abbiamo voluto coinvolgere i conduttori delle altre trasmissioni perlomeno quelle di punta quelle che vanno per la maggiore di Idea Plus e questa settimana ci ha raggiunto in collegamento un nostro carissimo amico che tutti voi conoscerete perché si chiama Stefano Reali e sapete benissimo di chi sto parlando per questa domanda che io ti farei vedere ciao Daniele ciao Sara da Stefano Reali direttamente dagli studi di Splash and Go motore in azione allora vorrei capire anche come riesci a mettere insieme queste due cose fai l'estetista fai la cosplayer poi soprattutto organizzi eventi come riesci ad a incastrare tutto quanto bene non dormendo in primis ovviamente poi dicono le estetiste sono esaurite per forza ecco l'inghifo voilà come faccio quando c'è la passione di mezzo non è più lavoro è appunto passione è divertimento è piacere quindi tutte le ore in più chiamiamolo lavoro è una come si può dire Dania aiutami una soddisfazione che va oltre la stanchezza oltre talvolta anche il nervosismo perché c'è però poi fai quello che ti piace grande soddisfazione e non lavorerai mai un giorno nella tua vita come diceva quello proprio lui proprio lui bene vuol dire che hai una grande organizzazione tra l'altro abbiamo detto organizzi tutte queste cose ti piacciono gli animali vai a cavallo quindi fai equitazione e poi è stato bello capire anche come sei anche perché a un certo punto dici mi ritroverò come la gattara dei Simpsons comunque un saluto da Stefano Reali da Splashin'Go e in bocca al lupo per tutto quello che fai grazie grazie si vedi diventa uno stile di vita poi non sono solo cosplayer io diventerò la gattara dei Simpsons cioè che ambizione amici possiamo amici eh niente non ne usciamo vivi da sta puntata niente niente da fare non ne usciamo vivi bene intanto io vorrei ringraziare anche Stefano Reali per ringraziare con l'occasione anche tutti gli altri conduttori tutti gli altri volti di Idea Plus che settimana dopo settimana rivedrete anche all'agenda delle cose belle quindi è una trasmissione corale quest'anno è una trasmissione di gruppo la facciamo tutti quanti insieme ma è questo il nostro bello ritrovarsi tutti assieme per parlare di cose belle di cose positive e quindi se prima di andare dal a spulciare ciò che il mondo del web ha da chiederci ha da chiederti in particolar modo come raccontava Stefano tu vai a cavallo quindi hai una passione non soltanto per i gatti ma una passione spropositata anche per tutto il mondo degli animali e soprattutto cavallo io ho provato l'esperienza devo dire che bella ti lascia quel senso una domanda te la vorrei fare io prego e cosa ti regala andare a cavallo come esperienza come sensazione e cosa provi quando sei in corsa su un cavallo la libertà punto la libertà inoltre è una passione che mi ha trasmesso il mio babbo quello adottivo e quindi è fin da piccola che ci vado e tutti gli animali trasmettono tanto i cavalli in particolare modo tanto che li usano per la pet therapy come sai l'ipoterapia per i bambini disabili quindi prende un mondo veramente largo non solo quello competitivo che purtroppo oggi è la base un po' di ogni cosa ma non andiamo a prendere le cose brutte e l'equitazione regala veramente tanto a uno sport nobile e al tempo stesso conosci tantissime persone stai all'aria aperta e fai un sacco di amicizie che è la cosa che a me piace di più bene che è quello che auguriamo a tutte le persone che ci stanno guardando in fondo siamo degli animali sociali io continuerò a ribadirlo fino all'infinito speriamo che ognuno di voi possa effettivamente portare continuare ad avere relazioni perché è questo in fondo per cui siamo siamo nati e non a caso anche questa trasmissione come accennava Iume prima è fatta di domande è fatta di interrogativi è fatta di scambi di opinioni perché ognuno di noi deve avere la propria opinione ed è giusto che la porti avanti e soprattutto ognuno di noi si sente secondo me meglio se riesce a scambiare il proprio la propria opinione il proprio parere con qualcuno e comunque fa sentire la comunicazione che puoi non condividere ma rispettare sempre certo certo ed è questa la bellezza la vita fondamentalmente tutta la vita è uno scambio di relazioni di interessi di passioni di domande di risposte alle volte le risposte sono date un po' così però a caso tutto a caso quella è colpa delle triple quadruple personalità che ci vuoi fare cioè quelli sono doni d'altra parte iniziamo a concludere perché credo che abbiamo gli ultimi minuti di trasmissione Yume social room cadiamo su di te allora Daniele ci tengo a dire che il lato social si è spostato per un attimo sul lato internet e prima sono andata a cercare effettivamente che cosa potesse voler dire quella parola in aretino che ci ha detto prima Sara ma anche Inter ti conferma che l'aretino è intraducibile ah perfetto mi spiace ho fallito il mio mestiere però ho una domanda per voi quella invece è così elegante l'aretino no è vero ah no dirlo anche adesso una domanda veloce e concisa il tuo cosplay che alla fine della preparazione ti ha dato più soddisfazione oddio sai che è una domanda difficile perché non ho un dream cosplay quel cosplay che sogni da una vita vai a fare e te lo senti tuo perché in realtà tutti i personaggi che ho interpretato me li sono sentiti un po' miei la cosa che mi piace di più nelle fiere è quella di gruppo a me non piace fare un cosplay mettermi un costume e sentirmi la regina in quel momento no il singolo il singolo personaggio a me piace fare gruppo piace stare insieme perché anche supporto e quindi non so risponderti sinceramente a questa domanda perché ho tanti frammenti di bellissimi episodi ecco di non so che dirvi no no io stavo ascoltando stavo ascoltando incantato dalle tue parole non hai saputo rispondere a questa domanda però adesso ti tocca un'incombenza e soprattutto mi devi rispondere a un particolare che io sto vedendo dall'inizio della trasmissione ma c'è uno scarpone con una pianta che sta venendo fuori che è lì ai piedi del nostro tavolino allora sentiamo il web cosa ne pensa e se ricorda qualcosa questo scarpone con questa pianta dentro ma scarpone no niente era una battuta non arrivata perfetto non ho colto sono sempre bionda ti ho ricolto intanto che il web si prepara a capire che cos'è quello scarpone tu mi hai visto per tutta la puntata tenere in mano una cartelletta che cosa c'è in questa cartelletta nulla ci sono semplicemente dei fogli bianchi che io farei anche vedere in telecamera perché oltre al mio bel faccione in primo piano eccolo qua ci sono dei fogli bianchi fondamentalmente e io non scrivo chiaramente niente questa cartelletta serve a voi a voi alla fine della puntata per descrivere tutto quello che abbiamo detto con una parola anzi con un hashtag quindi io ti ci lascio pensare e Yume ma abbiamo capito che cos'è quello scarpone allora pare di sì dalle mie rapide molto rapide ricerche pare che il web abbia capito che proviene da Wall-E un film della Disney mi confermi Sara? confermo assolutamente e ci tengo a specificare che io non sono proprio nerd non mi definisco tale perché credo nerd no nerd è il mio accento scusate nerd perché credo che il nerd sia quello sempre sul pezzo no? pronto all'ultimo episodio le ultime puntate l'ultimo anime che esce insomma io non sono esattamente così non quello è ranzulla quello è salvatore ranzulla quello è un altro che sei tu tranquillo comunque a parte questo io mi ritengo un po' infantile si può dire sì dai ma sì tanto stasera nel senso cioè quello che dici sarà usato contro di te in fondo a me che mi frega sì dai io sono come si può dire nostalgica ecco la parola che cercavo è nostalgica vintage non si possono dire le parole saggia 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 io sono ancorata ancora alle videocassette alle videocassette che appunto il mio babbo rubava che bella famiglia io voglio venirla a conoscere la tua famiglia se dopo facciamo uno scambio un briefing va bene va bene e quindi mi ritengo più per i film disney appunto o posso scelare ma sì certo o del famoso bim bum bam che della mia generazione ha visto e cresciuto infatti chiedetemi perché siamo così esattamente esattamente soprattutto è colpa di Bonolis se siamo se siamo così e di One e di One soprattutto perché tu dovrai immaginare per non so quante mila puntate parlare con un pupazzo insomma ce ne vuole comunque sono molto delusa pensavo mi avevi dato la cartellina perché eri te che ti dovevi distendere e io ti facevo il ritratto no quella è la soldani tra qualche puntata quindi posso fare io sì sì vai 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 tranquilla vai tranquilla mostra l'hashtag che hai scritto in telecamera vai a casa perché ma perché la vita è un caso e va bene così ragazzi va bene perché c'è tutto prestabilito tutto tutti tutti noi nasciamo grazie al caso in fondo insomma al caso ho detto al caso lo ha capitato ora grazie al caso noi siamo tutti qua si pari grazie ho detto caso ho detto caso Sara grazie grazie a te no che bonifico adesso che grazie cioè te la cavi così mi aspettavo un applauso minimo va bene pubblico fate un applauso fate un applauso pubblico bravi vedi vedi come fa l'audience mi hanno fatto stare per settimane senza pubblico alle tuicci interviste adesso che abbiamo finalmente il pubblico e siamo tornati dal vivo e fammi sentire un applauso in studio che sono anni no iumi questi sono per te grazie brava io ringrazio dal profondo del cuore Sara per essere stata nostra graditissima ospite di questo secondo appuntamento dell'agenda delle cose belle tv edition grazie a voi grazie a voi soprattutto ringrazio quel bel faccino che vedete in social room tutte le settimane e che si prodiga per portare domande su domande è una cosa che ci chiedono spesso ma le domande sono vere sono reali certo che sono vere di persone reali una è proprio venuta da un cosplayer addirittura voi pensate ma il nome è proprio firmato con cosplay accanto quindi era un profilo cosplay di sicuro sono come gli stand up comedian che si firmano comedy alla fine insieme a così abbiamo le cerchie che altro dire grazie a tutte le persone che ci hanno seguito fino a questo momento e rimanete sempre in compagnia di idea plus alla prossima ciao a tutti grazie a tutti Grazie.